Ciao a tutti, con questo video vorrei parlare delle emozioni. Qualcuno mi ha detto Pink, parlaci delle emozioni, quelle belle, quelle positive, quelle che ci fanno stare bene, quelle in grado di amarci e farci amare. Ovviamente per quanto riguarda le emozioni positive e bisogna aver raggiunto un buon equilibrio emotivo per poterle vivere con consapevolezza e piacere. Le emozioni sono sentimenti personali ma sicuramente non privati in quanto li condividiamo con le persone che ci stanno intorno e quindi anche con la persona amata parlando in termini di amore. Esistono alcune emozioni positive nel quale comincerò a parlare da adesso e poi farò una serie di video proprio dedicate alle emozioni positive che insomma a ciascuna emozione si può associare un'azione che può in qualche modo accrescere la consapevolezza verso di questa. Vorrei partire con l'emozione dello stupore e lo stupore si manifesta quando c'è la grandezza. Quindi insomma veniamo sopraffatti dall'emozione dello stupore quando si manifesta appunto la grandezza. In quale aree possiamo appunto provare esempio stupore? Beh, nell'arte, nella musica, nella natura, no? Fare quindi una passeggiata con consapevolezza e l'azione quale sarebbe? Quella di guardare con attenzione, fare caso con attenzione alla bellezza che ci circonda. In questo caso proveremo l'emozione dello stupore. Con questo video è tutto, alla prossima emozione. Se il video vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale della Pink. Ciao ciao!